the fool of the hill è una delle missioni più intriganti di cyberpunk 2077 con le carte dei tarocchi che vi raccoglie legate alla fine del gioco benvenuti su gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento per news build guide dei vostri giochi preferiti ricordatevi di iscrivervi al canale e se siete già miei followers ricordatevi di attivare la campanella così da sapere quando e cosa sta uscendo sul canale sono passati tre mesi dall'uscita di cyberpunk 2077 il gioco di ruolo fantascientifico di city project red che potrebbe non aver avuto il lancio più fluido del mondo ma comunque ha tirato molti milioni di giocatori in night city uno dei temi principali di cyberpunk 2077 è l'offuscamento della spiritualità e della realtà in un mondo digitale che conduce direttamente a una delle missioni secondarie più misteriose del gioco i giocatori possono sbloccare the fool of the hill dopo aver completato la missione della storia principale the east la missione secondaria incarica giocatori di trovare scansionare 20 pezzi di graffiti sparsi per night city ognuno di questi pezzi rappresenta uno degli arcani maggiori di un mazzo di tarocchi e raccoglierli tutti può rivelare alcuni spunti interessanti sul finale di cyberpunk ciascuna delle 22 carte degli arcani maggiori rappresenta un personaggio o luogo che ha un significato simbolico la lettura dei tarocchi è la pratica di estrarre carte dal mazzo dei tarocchi e quindi interpretare il risultato in base alla combinazione di significati i giocatori possono far leggere i loro tarocchi al negozio di misti esoterica che è anche il luogo in cui inizia e finisce la missione che ho citato in precedenza le letture di misti possono fornire alcuni spunti interessanti sulla storia del gioco e giocatori avranno la possibilità di fare un'altra lettura con lei prima della missione finale durante la ricerca di the fool of the hill tuttavia 20 dei 22 arcani maggiori si trovano come graffiti sui muri ognuno dei quali rappresenta un'interpretazione stilizzata della simbologia tradizionale per completare la missione i giocatori dovranno trovare scansionarli normalmente accompagnati da un convento di v o johnny silverland all'inizio del viaggio del folle misti spiegherà a v che sono rappresentati dalla carta full nella lettura dei tarocchi il matto è spesso interpretato come il protagonista di una storia e gli arcani maggiori rappresentano il percorso che intraprenderanno nel loro viaggio attraverso la vita questa è comunemente noto come il viaggio del folle ed è un metodo per introdurre i principianti alle carte degli arcani maggiori allo stesso modo johnny è rappresentato nella lettura di misti dalla carta del mago il mago simboleggia una figura carismatica misteriosa e intrigante che si trova a cavallo del confine tra cielo e terra queste rappresentazioni si adattano tutte alla storia di fama e ribellione di johnny così come alla sua esistenza nel limbo come copia digitale le altre due carte che hanno un posto di rilievo nella prima lettura di misti sono la ruota della fortuna e il carro al contrario che rappresentano il pericolo e conflitto che vi dovrà affrontare prima dell'inizio della missione finale dopo che il giocatore ha deciso come affrontarlo farà un'ultima lettura con misti questa lettura può essere diversa a seconda della decisione presa dal giocatore ma inizierà sempre con il matto il mago al contrario in questo caso queste carte rappresentano vi e johnny come erano all'inizio del gioco rispettivamente ingenui e ossessionati a seconda della scelta del giocatore misti potrebbe anche rivelare il diavolo o il giudizio questi sono i due arcani maggiori che non sono presenti nella missione invece possono essere trovati nelle missioni finale del gioco a seconda della decisione del giocatore se il giocatore decide di seguire il piano di anaco otterrà l'impresa del diavolo se invece vi sceglierà l'altra via sarà la carta del giudizio ad essere rappresentata insieme queste carte mettono un libro sul viaggio di vi durante il gioco ognuno è carico di simbolismo così come gli altri risultati degli arcani maggiori per i diversi finali alla fine spetta il giocatore decidere se ci fosse qualcosa di veramente soprannaturale dietro i tarocchi e il loro significato bene io con questo ho concluso noi ci rivediamo con il prossimo video spero di esservi stato utile nella compressione dei tarocchi di cyberpunk 2077 gg a tutti quanti